Ok, ultima parte extra, scusate se non ne ho fatto, non l'ho fatto, ci ho messo un po' per farla perché ma il lavoro me lo impediva Comunque, andiamo a catturare Regi Giga e si potrà andare a catturare solo se avremo tutti e tre Oh, ah eh, se avremo tutti e tre i Regi Rise, Regi Rock, Regi Steal che dovremo farci passare da Rubino O Zaffero, o Smeraldo Vabbè, ora Bianca ci fa entrare E aspetta, se è borsa repellente, ok E iniziamo la nostra scesa verso Regi Giga, allora prendiamo questa Pokémon che insomma cosa sia Buono Ok, sarà tutto a scivolate Con il ghiaccio, quindi sarà un po' complicata la situazione Allora, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua E per ogni cosa dobbiamo fare così, ok Altra porta superata Allora, ora bisogna andare qua Qua, 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 qua Qua Così 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 Santificazione Allora, ritrovarci Forse così Sì Perfetto Andiamo avanti Ok Andiamo a vedere cos'è quella Pokéball Sono stupido o lo faccio apposta È impossibile Ah, sì, dovremmo spostare la Massa, però non ne ho voglia Ok, allora Anche perché non c'è un Pokémon che sa di fare forza in squadra Ok, questo è l'ultimo mi sembra Sì, infatti è quello lì Allora Ecco Reggi Gigas Ora dovremo trovare il modo per andarla affrontare Cosa che almeno mi sta riuscendo Ok, allora si fa così 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 No, eh Ok Ok Ah P Sei Come Sen Non Nda Ah Car Così Così 하 Adora Non Si Così Ce C chu Ces UFF Forse, sacchite... Eh, infatti, molto più buavie di qua, giù... Ok... 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 Vai, perfetto. Ok, e catturiamo anche... Corpo di roccia, corpo di ghiaccio e corpo d'acciaio. Ok... Perfetto. Avendo tutte e tre... I cosi... I corpi, diciamo, così, ci apparirà raggi gigas al 70. Mentre a platino mi sembra che... Appare a livello 1. E non lo catturerò. Catturato raggi gigas... No. Ora, l'ultimo Pokémon da... Fare... È... Come si chiama? Allora... Adesso abbiamo un... No, non abbiamo nessun... Cosa è bene, lo lasciamo così alla cavolo di cane. L'ultimo Pokémon da farvi vedere è... Menefi che quando mi si schiederà l'uovo... Ora... Lo farò sicuramente... Cioè, lo faccio in questa parte, però lo faccio fuori parte... Perchè... Perchè sta tutto il tempo a non fare nulla... Non mi sembra... E camminare in su di uno mi sembra che sia una bella fatta. Ok, intanto usciamo... Perchè... Ah, non mi riesce neanche uscire... Perfetto... Anche per uscire ci vuole una logica... Allora, di qua... Di qua... Di qua... Perfetto... Mh... Basta averla fare all'incontrare... Qui che ha spaccaroccia basta... Usa spaccaroccia... Transollamente... Ok... Siamo usciti... Si... Si può dire di sì... Tempino di avevo... Eccolo qua... Ok... E abbiamo caduto l'ultimo... Allora... Usciamo di qui... E ci ritroviamo... Qui davanti... Non qui dietro... Allora... Qui davanti appena si sarà schiuso l'uovo... Su... Si sta per schiudere... Ok... Si sta per schiudere... E... Ci ha voluto poco... Comunque... Sono venuto qua... Perché se no... Non poteva buttare la bicicletta... Quindi... Ho fatto molto più velocemente... Ok... Allora... Ha fatto E... E... Si schiude... Il nostro uovo... Di Menefi... Perfetto... Ed ecco Menefi... Uscito dall'uovo... No... Non gli diamo soprannome... E... Come possiamo vedere... Ecco il nostro... Menefi... All'uno... Coda di luce... Bolle... Ciascuno... Fatti pure problemi... Pocher Ranger... Ho arrivato... Schiuso... Occasione speciale forte in attacco... Ok... Ci si vede... Nelle altre parti... Questa è l'ultima parte... Di... Di... Come si chiama... Perla... Grazie per avermi seguito... E grazie di tutto... Continuate a seguirmi... Nerdgold... Smeraldo... Che inizierò appresso... Molto veloce... Su... In questi giorni... E... Come si chiama... E... E... Bianco... Anche se spero... Non hanno fatto più parte... Però anche quello inizierò... Non vi preoccupate... Grazie ancora di tutto... Ci vediamo nelle prossime parti... Ciao...